In questo momento ci troviamo nell'ambiente del Viridarium della Casa di Cei, dove è in corso e in via di conclusione questo intervento di restauro sui affreschi, questi importanti affreschi che sono conservati in questo ambiente. Purtroppo in tutto il secolo scorso la mancanza di una adeguata manutenzione e anche alcune pratiche di restauro non idonee hanno fatto sì che si producesse un progressivo degrado di questi apparati che si è andato man mano approfondendo e anche stendendo sulla superficie. Per cui quando finalmente siamo riusciti a cominciare questo intervento c'era una situazione piuttosto grave da affrontare. In particolare per quello che riguarda le parti basse dell'affresco che sono quelle più soggette a fenomeni di degrado tipo la risalita capillare dell'acqua che trascinando con sé i sali solubili che poi producono fluorescenze sulla pellicola pittorica produce danni molto gravi e anche purtroppo definitivi. In particolare gli interventi più difficili da realizzare sono stati in primo luogo quello del consolidamento perché c'era una serie di distacchi a tutti i livelli della stratificazione dell'intonaco e anche a livello della pellicola pittorica. Ma poi soprattutto la pulitura perché c'erano depositi anche molto tenaci sulla superficie della pellicola pittorica per cui si sono dovuti fare degli interventi sia di pulitura chimica che di pulitura proprio meccanica ma alla fine siamo dovuti ricorrere anche all'uso del laser perché solo in questa maniera siamo riusciti a recuperare delle porzioni soprattutto nella parte bassa ma non solo anche sulla scena della caccia dove c'erano sostanze sorammesse che resistevano a qualsiasi tipo di intervento e quindi siamo riusciti a recuperare una gran parte di questa decorazione botanica diciamo che c'è proprio sulla base dell'affresco che prima era veramente scarsamente leggibile e completamente obliterata da questi depositi soprastanti. Un'altra fase importante dell'intervento è stata quella di provvedere a proteggere proprio l'ambiente dagli elementi atmosferici perché abbiamo provveduto a chiudere queste aperture che erano rimaste tra la copertura e il colmo dei muri che consentivano alla pioggia di entrare proprio nell'ambiente appena c'era un po' di vento e anche le aperture antiche quindi questo vano che faceva comunicare questo ambiente con il viridarium e le due finestrine.